Siamo qua? Vai! Più che ottima. Sai dov'è? Dove lavorano molto, non c'hanno questa attrezzatura, c'è un'altra che dove è stata bene, in Ancona, tutta quella parte di Ancona che fanno la filetta anconetana, ruolo sempre, arrotondano, e mandano alla fila luce, e lavorano senza sale, quando l'uno facendo sale. Ma in chi è la rotondatrice ad opera? C'è quella conica, quella conica, ma non ha rotonda. No, dopo la mandano fare la fila.